la parte femminile della coppia dei creatori pensate della baciata sensual Jorge e Judith per voi team leader, ovviamente team trainer Clizia Miceri un grandissimo applauso la mafia latina vivirei in tu ricordo come un simple aguacero di estrellitas e duendes vagare con tu vientre mordiendo cada giorno vivirei in mis sueños come tinta indeneble come marchare a cero no se olvide di roma quando uno avanza in amor ah, lo che mirodo è sempre fai un mese di roma come tinta indenebri a s'amogarme a tua ventana e despeinarme la costumbre ver tu amanecer come mi vita mi perugia po concello come tinta indenebri Applausi! Applausi! Applausi!